Proseguono, anche se con alcuni ritardi causati dai rincari e scarsità di materie prime, i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale sul Vomano. Un'opera molto attesa che permetterà di collegare il comune di Roseto a quello di Pineto e completare la ciclopedonale della costa Terramana. Ponte che doveva essere terminato nel 2017 ma che è causa di una serie di controverse e non è stato mai portato a termine. I lavori iniziali comprensivi di progettazione ammontano a 2.200.000 euro e dovranno essere conclusi entro la fine del 2021. Diciamo dei ritardi legati all'approvvigionamento della merce, però contrattualmente è tutto a posto e regolare. I lavori inizieranno non appena arriverà la fornitura di merce necessaria per la realizzazione del ponte che comunque verrà realizzato entro e non oltre il 31-12 come da cronoprogramma approvato dalla regione. Quindi su questo non ci sono particolari problemi. I lavori, insomma, la ditta è una ditta seria, adesso ha già ordinato tutto il materiale. Purtroppo l'approvvigionamento dei materiali, tra l'altro l'ordine è stato fatto successivamente dal fatto che abbiamo dovuto scalare la graduatoria, quindi non è assolutamente attribuibile il ritardo alla ditta. E quindi, però, entro il 31-12 verrà realizzato, io convido anche prima, perché una volta arrivato il materiale, la ditta che ha già predisposto il cantiere, ha già fatto tutto quello che c'era da fare, inizierà strombattuto con i lavori. Un ponte molto atteso per i turisti e non solo, perché comunque permetterà di collegare due comuni e non far passare le biciclette sulla nazionale. Sì, sì, fondamentale, poi insomma per chi come me anche va in bicicletta. Questo è fondamentale, la sicurezza della viabilità del ciclista è assolutamente fondamentale. È un'opera strategica su cui abbiamo puntato molto, perché era rimasta bloccata per tanti anni. Abbiamo dovuto risolvere dei problemi di natura burocratici, anche importanti. Sono stati risolti, abbiamo affidato adesso i lavori e quindi confidiamo entro la fine dell'anno di poter tagliare il nastro, perlomeno chi ci sarà di tagliare il nastro, perché non credo io che ci sarò. Grazie a tutti.